Paolo Bettio, sempre con noi parliamo di Expo Veneto, quindi l'Expo che da Milano, però c'è anche la porta per il Veneto, anzi il Veneto potrebbe essere con Venezia, bisogna riconoscerlo, una porta di ingresso in Italia per arrivare poi all'Expo o viceversa per uscirci, comunque una porta strategica secondo me senza dubbio sì, bisogna che tale sia. E allora vediamo un pochettino anche le garanzie, qui dicevo dietro le quinte di questo comitato che è un comitato organizzatore di carattere locale, nasce da un'intraprendenza privata di Luigi Brugnaro che è stato presidente tra l'altro degli industriali, cosa c'è, che selezioni ci sono, che tipo di verifiche, che l'evento proposto sia un evento all'altezza della situazione, che l'azienda che entra sia un'azienda seria che magari non fa uso di terzisti cinesi per fare un esempio che poi magari cadiamo sull'uovo di Colombo, lo so però siamo in Italia, bisogna anche dire questo, quindi che lavoro ci sta e che impiego di mezzi e risorse c'è dietro? Sì, allora voglio dire, adesso non è che noi facciamo un lavoro di intelligence, però di fatto quello che ovviamente vale la pena spendere due parole proprio sul tipo diciamo di selezione che si va a fare, che non è una selezione fatta sul tipo diciamo di azienda o d'altro, ma sul fatto che dovendo mantenere un livello qualitativo molto alto, cerchiamo di far sì che anche la proposta dell'evento sia di qualità. Esatto, infatti è questo che volevo arrivare. Sbagliata su dei parametri che noi ci siamo dati, sulla quale possiamo dire ok, questo è un evento che va bene, questo è da migliorare, cioè non è che noi scartiamo se un evento non va bene perché riteniamo che a noi non piaccia, ma semplicemente cerchiamo di valutare la modalità di come è descritto questo evento, di quante lingue sono, in quante lingue viene proposto, perché un'altra cosa che non abbiamo detto prima ma è che è assolutamente fondamentale, è che il sito, il portale è tradotto in 25 lingue. Aspetta, quindi voi avete una penetrazione in 25, in 40 realtà senza dubbio? Dunque, quello che abbiamo cercato di immaginare è questo, cioè partendo dal presupposto che ormai non è più sufficiente avere una, che so, tradurre il sito nel caso specifico in lingua inglese, perché ormai, voglio dire, ci sono tantissimi paesi che si sono approcciati al mondo, diciamo, del commercio o d'altro che di fatto è sempre più la parte dell'Oriente che traina. Di conseguenza noi immaginiamo che, immaginiamo, per l'esperienza direi quasi comune di ognuno di noi, che se io trovo un sito nella mia lingua è più facile che vada ad approfondire il tema e capirne un po' di più. E quindi abbiamo cercato di immaginare quali possono essere questi visitatori, immaginandoci appunto che visitatori, abbiamo fatto una scelta di individuare in queste 25 lingue, che vanno a coprire circa 5 miliardi e mezzo di persone, cercando proprio di descrivere tutti i contenuti che sono all'interno del sito, quelli che abbiamo fatti noi, appunto, in queste traduzioni. Questo per far sì che il visitatore, che tipicamente, che so, il thailandese, che parla in Thai, piuttosto che il turco, abbia facilità estrema. Abbia facilità di capire cos'è questo Expo Veneto, quindi che possa capire di più perché ovviamente in questo caso è proposto tutto quello che è il progetto Expo. E soprattutto, in caso specifico, noi puntiamo molto su Venezia di fatto, per cui cerchiamo di individuare, di intercettare il visitatore turco che è interessato all'Expo, che vede Venezia come ovviamente, possiamo ben dirlo, insomma, il catalizzatore per il Veneto di tutte quelle che possono essere delle richieste di attività. e quindi va ad analizzare, vede quali sono i percorsi. Tutti i percorsi che ci sono dentro, sono circa 150 percorsi descritti in maniera abbastanza dettagliata per capire di cosa si tratta, sono tradotti nella sua lingua. Questo va da sé che l'azienda che deve inserirsi, quindi con il suo evento, deve tradurlo come minimo in inglese, perché ovviamente stiamo parlando di internazionalizzazione. Di conseguenza, l'obbligo che viene dato all'azienda, quindi il primo criterio per essere inseriti, è quello di proporsi con un evento minimo in lingua inglese. Logicamente, se un evento è in più lingue, ovviamente avrà dei vantaggi competitivi, di fatto. È ovvio. Ecco, dopo voglio far capire ai nostri telespettatori anche come fate a raggiungere voi, con questa informazione, questo sito, perché i siti ce ne sono talmente tanti, com'è che fa a digitare www.expoveneto.it. C'è una telefonata, pronto? Sì, buongiorno, sono Arnaldo, chiamo da Rovigo. Sì, buongiorno. Io opero nel settore agricoltura, sono un imprenditore che praticamente produce grano per le più grosse realtà nazionali, che a sua volta fa farine per biscotti e non solo, e mi chiedevo, visto che lì si parla di cibo, visto che lì si parla di ambiente, io sono direttamente interessato al discorso, come può la mia, le mie società entrare in un discorso, in un discorso Expo? Consideri che quando io opero e lavoro con i più grossi gruppi molitori nazionali, è giusto non far nomi, però voi pensate ai più grossi gruppi nazionali che fanno pasta, biscotti, ecco io opero, sono a contatto con 6-800 aziende agricole, e tra l'altro vi invito a parlare anche un po' di più di agricoltura. Lo faremo quest'anno, sì, senza dubbio, guardi, questo senza dubbio è un nostro impegno, ne ha parlato anche il nostro editore, questo senza dubbio ha ragione. Magari perché no invitare anche qualche imprenditore, io opero in particolar modo in Veneto, Venezia, Padova, Rovigo, e perché no lì in queste trasmissioni invitate anche qualche imprenditore. Allora guardi, facciamo una cosa, lei ci autorizza a richiamarla, abbiamo il suo numero in regia, quindi la ricontatteremo, e mi farà molto piacere averla ospite nella trasmissione che parla di agricoltura. Perfetto, bravissimo, ecco io sono a vostra disposizione, ma visto che questo è questo... Però adesso vediamo di affrontare quello che lei ha posto come problema per darle una mano, perché diciamo che lei è anche un punto, ci fa molto piacere averla sentita perché è strategico, perché un imprenditore, facciamo anche i complimenti per la sua attività, che vada sempre meglio. Chiedo a lei, Paolo Bettino, di dare una risposta al nostro telespettatore, che è un imprenditore di questo tipo. Sì, noi parliamo di... Diciamo che c'entra in pieno. Assolutamente, come? Il tema dell'Expo sicuramente, e ovviamente io parlerò dell'Expo Veneto, insomma, come fare per inserirsi su questo portale. Premesso fra l'altro che il 20 di questo mese saremo a Chioggia, dove presenteremo ulteriormente, nell'ambito di questo roadshow che stiamo facendo in giro per il Veneto. Martedì 20, mattina. Martedì 20, a Chioggia. A che ora? Alle 10. Dove? Adesso mi sfugge il posto esatto, però lo mettiamo sul sito, c'è sul sito comunque. Fermo questo roadshow dove andremo a ripresentare ulteriormente questo, cos'è il progetto Expo Veneto, come si fa ad inserirsi dentro, cosa si deve fare. Ma rispondiamo. Nel caso specifico direi che sicuramente un tipo di produzione, diciamo, di questo tipo, sì, ovviamente è assolutamente compatibile con quelli che sono i temi, e anzi direi che proprio c'entra perfettamente. Nel nostro caso quello che consigliamo è quello di inserirsi sul nostro portale. Quindi entrare su www.expoveneto.it. C'è un'area dedicata alle aziende, dove queste possono inserirsi. Ecco, vediamo queste aziende. Dove si inseriscono, per inserirsi c'è tutta una parte, diciamo, descrittiva di tipo generica, quindi l'anagrafica dell'azienda, chi è responsabile, la descrizione di cosa fa l'azienda. Tutta questa parte, diciamo, che serve poi per essere visibile dal visitatore e successivamente inserire un evento, immaginarsi di fare un evento, come si diceva prima, che può essere ripetitivo nell'arco, diciamo, in tutto il periodo, o una volta solo nell'arco del periodo. Per il nostro imprenditore, per immaginare, che tipo di evento potrebbe essere un imprenditore agricolo? Sulla base, diciamo, dell'attività che fa, della sua produzione, se si occupa, che so, di granaglio o di farina o di cose di questo genere, niente di meglio di fare assistere come avviene, diciamo, una produzione, come avviene, diciamo, una trasformazione del prodotto. Ovviamente, non significa semplicemente che uno viene lì e bussa la porta e questo quello fa entrare, ma cercare di organizzare un evento che magari comporti anche l'impiego anche di altri suoi colleghi, o ad esempio delle aziende con le quali collabora, mettere insieme anche un piccolo evento, che può essere una festa, se diamo degli spunti, voglio dire, ma periodica nel periodo, in maniera tale che il visitatore che è interessato all'argomento agricoltura, nel particolar caso potrebbe essere nel grano, visto che ci occupiamo di grano, e intercettare questo visitatore e portarlo, portarlo, il visitatore andrà da lui, sulla base, diciamo, di quelli che possono essere le sue proposte. Quindi, a sua volta, magari lui può coinvolgere il biscottificio della situazione, che magari può essere anche un cliente molto interessante. dare alla filiera, cioè voglio dire, chi si occupa dell'agricoltura, da questo punto di vista, è molto avvantaggiato, perché effettivamente consente di far toccare con mano, addirittura, ad assaggiare laddove è possibile, nei prodotti, quindi è una cosa tra virgolette abbastanza semplice. Vedere l'impresa agricola, insomma. Vedere l'impresa agricola, perché di fatto quello che si propone il portale, di fatto, è proprio quello di cercare di intercettare il visitatore potenzialmente utile all'azienda, perché questo portale qui, gli eventi che sono lì dentro, come si diceva prima, sono all'80% aziende che si propongono ai visitatori, intesi come potenziali, speriamo, ovviamente ci auguriamo, fornitori o clienti. Ecco, perché è un modo quindi per acquisire visibilità e acquisire clientele, insomma, internazionalizzarsi, altro aspetto. Sì, e questo è coerente, diciamo, la parte di internazionalizzazione è assolutamente coerente con questo tipo di approccio, nel senso che anche questa azienda può inserirsi, quindi non deve inventare cose strane, deve semplicemente immaginare un evento, perché questa è l'unica cosa che chiediamo, ripeto, è tutto gratuito, ma si inserisce in questa possibilità che noi stiamo approntando, già da diverso tempo a questa parte, per far sì che ci sia il visitatore che viene intercettato. Il visitatore, parliamo soprattutto del visitatore estero, ma può essere anche il visitatore italiano, logicamente, perché tanti di questi eventi che sono inseriti all'interno troveranno sicuramente anche un molto interesse per, chissà, che so, a 30 chilometri da dove si svolge l'evento. Ma, a parte questo, il nostro progetto è quello, quello che stiamo facendo, di attivarci sui mercati esteri, sui mercati, su dei paesi che riteniamo possono essere strategici per quel tipo di lavorazione che stiamo facendo qui nel Veneto, e quindi intercettare tramite tutta un'attività di digital marketing, quindi quello che in gergo viene chiamato web marketing, quindi tutte quelle attività che fanno parte sul web, che fanno sì che quando un visitatore potenziale, o un turista, o un imprenditore cerchi la parola Expo, venga intercettato dal portale Expo Veneto, e che quindi entri al nostro interno, e che, sulla base della ricerca che dicevamo prima, possa individuare qual è l'evento che è interessato. Ecco, dicevo, ma come fa... Sì, prego, finisca pure. E come è fatta da dare la garanzia che questo portale venga visto all'estero da un numero indefinito, indefinibile di potenziali interessati? L'unica garanzia che noi possiamo dare è che ci impegniamo moltissimo. No, per spiegare, lei si occupa di Attiva, che è una società del gruppo, diciamo così, gruppo umana, dedicata al web, al web marketing, eccetera, quindi avete un'esperienza di anni nel settore. E facendo, quindi conoscete la comunicazione sul web, quindi sapete come intercettare, lasciare, agganciarvi ad altri siti, eccetera, a comparire nei motori di ricerca, ecco, questo è importante. Sì, allora, Attiva è per il 96, per cui voglio dire, sì, è anche per questo che abbiamo cercato di mettere su tutto questo sistema qua, l'esperienza in tal senso l'abbiamo. Per spiegare dietro le quinte, perché sennò la gente giustamente... No, è che di fatto, francamente, io non è che voglia vendere cose che magari poi sul mondo non succedono di fatto, cioè, la garanzia, come si diceva, che questo... Nella certezza non c'è mai nessuno. ...si è visto da milioni di persone, non c'è. C'è la garanzia, effettivamente, che stiamo facendo di tutto per far sì che ci si possa essere intercettati, utilizzando anche degli algoritmi un po' particolari, cercando di individuare quali sono anche i motori di ricerca più diffusi, perché noi parliamo sempre di Google, ma ad esempio, che so, in Russia c'è Yandex, in altri paesi ci sono altri portali che funzionano di più e quindi cerchiamo di avere anche delle collaborazioni in loco con delle strutture del posto, perché di fatto immaginiamo che, niente di meglio, che la struttura che è presente in quel determinato paese sa come agganciare, perché culturalmente è più vicina a quello che può essere. D'altra parte, i contenuti che sono messi all'interno del sito sono già stati pensati, immaginati, per creare delle keyword in maniera, diciamo, spontanea. Quando parliamo all'estero, ovviamente, non è che parliamo tanto di Veneto, ma ci approcciamo molto di più con il concetto di Venezia, perché Venezia è unanimamente conosciuta in tutto il mondo, magari forse il Veneto, come, perlomeno anche come nome, non è che sia così a la portata di tutti. Ed è per questo che abbiamo cercato di creare proprio i contenuti, che ormai sono la cosa fondamentale nel mondo del web per essere trovati, strutturati in una certa maniera per essere effettivamente più appetibili e per essere più intercettabili dei visitatori. Quindi c'è un lavoro molto importante che stiamo facendo, e anche qui ci sono degli investimenti molto importanti da fare, perché di fatto il mondo, sappiamo bene, che fortunatamente è abbastanza grande e dà delle opportunità enormi. Su questo, ovviamente, stiamo lavorando continuamente. Ecco, abbiamo visto all'inizio la pagina delle collaborazioni istituzionali, quindi dicevamo, vabbè, il patrocino della Regione Veneto, ma abbiamo anche le associazioni di categoria coinvolte. Quante sono? Assolutamente, 17. E gli agricoltori sono rappresentati? Assolutamente, sì, sì. Quindi a questo punto è anche, non so, l'imprenditore agricolo che ci ascolta, gli imprenditori agricoli che ci ascoltano, che poi sappiamo che appunto i copri e fasciolari sono anche abbastanza. Dovrebbero anche, magari, battere la porta alla propria associazione e dire, tu sai come sei, fai parte di questo comitato, dammi una mano, aiutami, questo può essere un'altra via. Noi abbiamo in parte, ovviamente, d'accordo con le associazioni, demandato a loro la divulgazione, diciamo, L'onere, diciamo. L'onere, sì, di cercare di fare un'informazione molto granulare, di fatto, perché è impossibile raggiungere le 300.000 aziende che ci sono nel Veneto. Di conseguenza, le associazioni sono appunto per noi un veicolo molto importante, molto strategico, proprio per cercare di avvicinarsi il più possibile alle loro, diciamo, associati, per poter comunicare in maniera, diciamo, più diretta. Dopodiché, se hanno bisogno di qualsiasi altro tipo di supporto, logicamente, ci sono delle persone dedicate al nostro interno che rispondono in maniera anche sistematica e precisa alle esigenze che queste... Quindi anche esistono delle persone fisicamente, perché non nulla è scontato, perché tanti poi si vedono davanti, non hanno una dimestichezza con il web. No, c'è un numero di telefono per cui di fatto è più concreto di così, eventualmente c'è qualcosa di possibile. E si può contattare, avere le informazioni, no, perché sono cose anche molto importanti, perché qui voglio ricollegarmi alle opportunità che possono venire dall'Expo. Voglio dire, quasi di andare prima in pubblicità, poi di parlare dell'internazionalizzazione e dalla porta d'uscita dalla crisi, forse, che può essere data. Perché in tutte le realtà, in moltissimi paesi, dove c'è stato l'Expo con varie tematiche, è stato poi un momento di aggancio importantissimo, di, non dico di ripresa, comunque di slancio importante. Ci spieghiamo che anche per l'Italia lo possa essere. Expo Veneto, come portale, lo comunichiamo, comunque non si chiude con ottobre, ma sarà un portale sempre attivo, questo è importantissimo. Quindi è anche importante agganciare questa ulteriore opportunità. Vediamo e parliamo di internazionalizzazione, quindi di apertura anche per quelle imprese che hanno difficoltà a farlo, perché ce ne sono, ce ne sono tante. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo con voi. Pubblicità, pochi secondi,